hanno dato vincite pazzesche e continuano a dare vincite pazzesche e il turno quest'oggi di un software storico che insieme con spia mestosa è stato uno dei primi software presentati che dammi il 5. Questo programma ogni volta che il 5 sortisce come spieso qualsiasi ruota vi propone una previsione formata da un estratto, 4 ambisecchie e 2 abbinamenti per terno su 2 ruote fisse. vi consiglio anche le due posizioni determinate per l'ambata quindi parliamo di un numero su due ruote in due posizioni. Nell'ottavo colpo dell'estrazione del 15 febbraio questa è come sempre la prova di ciò che dico e ciò che affermo che la costanza nel gioco dell'otto il non stancarsi di portare avanti le previsioni premia alla fine sempre perché con i miei programmi ed in particolare con dammi il 5. Ci siamo portati a casa l'ennesimo terno secco a ruota quindi ambata secca 77 vari estrazione del 15 febbraio anche in posizione quindi in quarta posizione ambosecco 77 46 che si è abbinato al 72 quindi pagando il terno secco a vari all'ottavo colpo 76 77 46 72 oltre ovviamente ai vari ambiti in terzina quindi immaginate di giocare estratto ambisecchi e terzina amboterno che vincita si va ad ottenere. Questi sono terni secchi reali, terni secchi documentati perché la previsione viene elaborata in data 27 gennaio, è visibile, è chiara, è scritta nero su bianco e questi sono terni secchi veri ottenuti dalle mie spie, dallo studio che è alla base dei miei software che sono delle macchine da guerra imbattibili. Sapete benissimo che fare un terno secco non è facile, sapete benissimo quanto paga un terno a ruota e quindi quanti video vi ho portato sul mio canale proprio di terni secchi vinti a ruota, dei miei programmi. Potete andare a vedere quanti video ho fatto e quante testimonianze vincenti vi ho portato dai miei programmi, di quanti termi, di quanti ambi, di quante vincite incredibili si ottengono dai miei software. Quindi vi invito ad acquisire il software da 1500 perché è un bellissimo programma, chi vorrà un singolo software, chi ne vorrà più di uno, ci sono delle bellissime promozioni in corso. Potete contattarmi sempre via mail o via whatsapp numero 348 7547715, riferimenti che vi lascio per comodità in descrizione. Volevo testimoniarvi quest'altro bellissimo esito di terno secco ottenuto dal mio software da 1500 nell'estrazione del 15 di febbraio. Quindi mi raccomando non perdere i miei programmi, a seguirli, chi ha in mano i software li segua, li giochi perché danno sempre costanti vincite. Le ambate e le strati e terminate neanche li conto perché ne arrivano a balanga. Quindi questa è stata una delle altre vincite eclatanti ottenute dai miei programmi che hanno sfornato terni secchi veramente a raffica e parliamo di software presentati 3, 4, 5 anni fa. Cioè programmi che ancora oggi continuano a pagare i terni senza nessun tipo di aggiornamento richiesto. Il software così è nato e così va avanti. Non sono stati aggiornati, sono sempre gli stessi, gli algoritmi e la base spia sono sempre gli stessi e danno questi risultati a testimonianza che alla base c'è un mio personale lavoro di ricerca sulle migliori spie per andare a vincere. Quindi voi lo prendete oggi e il software vi vale per sempre perché dammi il 5 è stato uno dei primissimi software presentati almeno un 5 anni fa. Quindi prendetemi qualsiasi metodo software di 5 anni fa e andate a vedere se paga i terni secchi a ruota come succede con i miei programmi che sono veramente degli strumenti molto molto affidabili. Per adesso un saluto a tutti gli stessi bancologi.